Amati fratelli, siamo giunti alla conclusione dell'anno liturgico che è iniziato con la festa solenne dell'Immacolata e culmina con la celebrazione della festa solenne del cuore del Padre. Da Maria Immacolata al cuore del Padre, ecco il percorso della salvezza. Maria accoglie nel suo grembo e nel suo cuore il bimbo divino per generarlo fisicamente e spiritualmente nei cuori dei figli che le sono stati affidati. Madre, ecco i tuoi figli. Figli, ecco la vostra madre. Con lei che si è consacrata la verità, come Gesù si è consacrato alla verità, perché tutti potessimo consacrarci nella verità, così come ascoltato. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, dice Gesù, liberi da ogni schiavitù fisica, morale e spirituale, perché la verità smaschera la menzogna, abbatteri d'oratria e a niente all'iniquità, perché il Padre gli ha dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli sono stati affidati. In questa culla dove il Padre ha inviato il bambino Gesù, lo Spirito di Cristo aleggia per soffiare nei cuori la vita eterna, per dare compimento alla prima resurrezione, che è la restaurazione dei cuori, e preparare le anime a vivere l'eterna resurrezione che coinvolgerà la pienezza dell'essere umano, l'anima e il corpo dell'uomo. che da corruttibile sarà rivestito di incorruttibilità, per ritornare ad essere ad immagine e somiglianza di Dio, come Cristo è, e prendere parte al regno del Padre, che nel Figlio manifesta la sua infinita ed eterna bontà, perché tutti siano una cosa sola. E' questo il compimento della preghiera di Gesù. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. La Trinità nei figli e i figli nella Trinità, così come è rivelato alla Fanciulla di Dio. Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo e tu, non per gruppi, ma per persona, per ogni Figlio di Dio. Padre, da questa culla si innalza a te il nostro grazie, perché ci hai fatto dono dell'amore fatto persona, del Tuo amore, che è Spirito ed è Santo, che incide nei nostri cuori ogni Tua parola, ci rivela il Tuo pensiero e la Tua volontà e ci mostra il tuo volto di bontà. Padre, tutti insieme ci stringiamo al Tuo e nostro Gesù e, unendoci alla Sua preghiera, umilmente ti supplichiamo. Padre, glorifica Tuo Figlio. Glorifica la Sua parola di verità. Glorifica la Tua culla, tabernacolo del Dio vivente. Glorifica la Tua Chiesa, corpo mistico di Cristo. Dai compimento alla Tua ora. Manifesta la Tua potenza. Annienta il male. Rendi giustizia ai piccoli, agli innocenti e ai perseguitati a causa della parola di Tuo Figlio. non permettere più ai nemici del Tuo cuore di nuocere al Tuo mistero e ai Tuoi figli. Il fuoco del Tuo Spirito, Padre, si manifesti perché si compia il Regno del Tuo Cristo, Rede Re e Signore dei Signori. E così sia. Dio Padre Onnipotente, benedica noi tutti nel Suo Santo Nome di Padre, di Figlio e di Spirito Santo.